Un saluto da Dr. Palmas, ti mostro un caso di denti fissi con sistema bocca bionica. Un paziente con uno stadio terminale di piorrea, denti tutti in espulsione. Questa era la situazione con cui è venuto da noi e questo è il risultato finale. Il paziente aveva pochi denti rimasti in bocca, con un rapporto di occlusione sbagliato. I denti superiori addirittura chiudevano posteriormente i denti inferiori. Questa è a causa della piorrea che stava facendo espellere le radici. Aveva dei grossi difeti ossi nella parte inferiore. Questa è la radiografia che mostra poche radici e quelle ancora presenti con delle gravi infezioni attorno. Abbiamo eseguito la chirurgia, posizionato gli impianti dentali e quelli che vedi a monitor sono i denti provvisori con cui il paziente è stato sei mesi. Questa è l'RX della chirurgia con gli impianti inseriti, una arcata superiore nella parte superiore, in composito invece in quella inferiore. E questo è lo schema grafico degli impianti che abbiamo inserito, che mostrano come siano stati utilizzati degli impianti che evitassero le zone di vuoto dei seni macellari. Come? Inclinandoli. Questa che vedi sulla sinistra è la TAC tridimensionale prima dell'intervento, sul lato destro puoi vedere invece la TAC 3D con gli impianti dentali inseriti. Intervento perfettamente riuscito. Al paziente abbiamo fatto vedere quelli che sarebbero stati i denti che avremmo potuto creare. Abbiamo insieme scelto delle forme di denti adatte e li abbiamo infine riportate nel progetto definitivo con delle repliche di denti reali. Quelle che vedi sono delle arcate iperrealistiche, sistema bocca bionica che permette di riprogettare dei denti artificiali partendo da delle scansioni di denti reali. Quindi permette di far vedere al paziente quello che è il risultato ottenibile. Nota qua come la gengiva artificiale sia indistinguibile dalla gengiva naturale. Il paziente ovviamente non ha più i denti, quindi abbiamo dovuto simulare anche la gengiva, il tessuto osseo perduto, altrimenti non sarebbe stato possibile mettere i denti nella posizione corretta. Questo è il risultato ottenuto, un risultato veramente eccellente. Sono poche le strutture nel mondo che riescono a ottenere un livello di iperrealismo come queste arcate. Ti ricordo che i denti sono la parte più importante da ricostruire. Gli impianti dentali bene o male integrano tutti quasi allo stesso modo, ma ciò che fa veramente la differenza poi sono i denti, quelli che devono masticare per 20-30 anni nella bocca del paziente.